I nuovi provvedimenti in arrivo per la gestione dell'emergenza dovranno tenere conto, dopo oltre un anno di privazioni e difficoltà, della situazione in cui versano i Veneti. A dirlo è il governatore Luca Zaia, che si è confrontato con gli altri presidenti di regione e con il governo, sulle delicate scelte che verranno prese da qui in avanti. Ho posto delle questioni, intanto che non c'è più il clima di marzo, questo l'abbiamo detto tante volte. Perché dico questo? Perché non è che possiamo accollare colpe ai cittadini. Dobbiamo capire che i cittadini sono stremati da un anno di restrizioni, di problemi, di problemi economici. Ho ricordato che il Veneto ha perso 60.000 posti di lavoro. Il tessuto produttivo e commerciale del Veneto, che si sovrappone alla trama sociale, è in difficoltà. Per questo motivo diventa indispensabile una programmazione degli interventi. Ho chiesto che ai cittadini si faccia una comunicazione istituzionale che dia anche una prospettiva. parlare di un nuovo decreto legge, ma che si dica in prospettiva, si inizia qui, si finisce lì e fine. Io capisco che nessuno ha la sfera della verità. Però è pur vero, ho detto oggi, che noi dobbiamo dare comunque una prospettiva di programmazione a tutti. Grazie a tutti.